Ciao ragazzi, comunque Pokémon GO è troppo bellissimo come l'hanno strutturato e fatto Nonostante tutto dovrebbero fare un po' di aggiornamenti per i bug perché i bug ce ne sono Però è strutturato veramente bene e vi voglio far vedere questa immagine di quanti Pokestop ci sono nella mia zona Guardate quanti, in realtà dall'immagine non si vede ma un po' più a sinistra ci sarebbe un'altra palestra Quindi tre palestre e tutti questi Pokestop Cioè qui te fai un rifornimento per un anno possiamo dire Vabbè, bando le ciance andiamo su Minecraft Ciao ragazzi, sono io, è pronto, sono tu da best Oggi volete che iniziava un nuovo video? Fantastico! Ok! Iniziamo subito! Ciao ragazzi, eccoci qua su Minecraft, su Minecraft casomai E oggi siamo qui Qua, in questi tre mondi Indovinate quale facciamo Questo qua Il ritorno di Lollo02 dei pezzi che l'ho creato un annetto fa E io non ho toccato niente Come vedete l'ultima data che ci sono andato è il 17.08.2015 Quindi sarebbe quasi un anno fa, più o meno Sarebbero 11 mesi, così Che casino ragazzi Vediamo in che situazione sta Qualcosa non va C'ho una mappa in mano Sì, ok Mi ricordo che avevo fatto questa casa con C'è un ragno? Possiamo dormire? Vediamo un po' se possiamo dormire Il letto, cioè tutto sto piano per un letto fatto È una cosa incredibile C'è sempre il solito bug che siccome l'ho fatta a piramide Si sdraia un po' scivolante, non lo so E poi se noi andiamo giù Benissimo, questa è la mappa La possiamo pure togliere I nostri strumenti Che ricordi Allora Ammazza, non ho un'armatura Ammazza quanto so tirchi ho Allora Vediamo un po' in che situazione stiamo Ah, le farm Perfetto, ammazza quante uova Ci potrei fare tantissime cose Ok, le abbiamo raccolte tutte Sì Allora Poi qua Ah sì, i maiali Com'è? Ce ne sta uno fuori No ragazzi Che stanno a fare questi? Come? No, aspettate Come siete usciti voi? Come siete usciti? Ci sarà un bug? O da qui? Avrò lasciato il cancello aperto? Non lo so Però a chi uso? Non lo so Non lo so Non lo so Il villaggio? Sì, sì Mi ricordo Va bene E qua Qua Ah, ok Sì, l'acqua infinita Volevo Ah, mi ricordo Volevo fare anche la lava infinita Però La mia mente è veramente Stupida E quindi Avevo scoperto nel momento Che non si poteva fare la lava Infinita Mannaggia Allora Vieni qua Dai Vieni qua Ma non mori te Ma non mori Vai via Vai via Vai via Oh Vattene via Va Ok Ah, il portale avevo fatto Che lo possiamo direttamente accendere con l'acciarino Però non siamo ancora pronti Perché tocca fare tutte le armature E dobbiamo incantarle poi Per andarci dentro Perché è veramente un casino E vabbè Maiali Poi Ah, il villaggio Vediamo un po' come sta Abbiamo le farm gratuite Ah, oh Ma Non lo so Mi scappano Gli animali a me Dunque Grazie Cibo Pollo Allora Eh Dai, è tutto grano No, di sicuro un po' riparare carote Che so, quelle Sì Carote Ah, è vero C'è Centro di risorse L'avevo chiamato Aspettate che io devo distruggere questa Infatti che sta a fare questa scaletta qui di sabbia Ok 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 E questo era il centro di risorse Beh Ammazza Povero Poverissimo Legna Manco Utensi del cibo Mamma mia Tantissimi Ero così ticchio che non ho fatto veramente niente Però dall'inventario ho 16 di lingotto ferro Molto buoni per fare tipo una spada E per accogliere nuova legna Lascia No Non ci provare caro mio Non ci provare che già nel server mi hai veramente stufato Perché ero nel vanilla E Sai quante volte di creeper mi hanno veramente scoppiato in faccia E ho dovuto riparare le farm La casa Che poi alla fine mi hanno derubato Mi hanno griffato Via 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 Mamma mia ragazzi So così ticchio ammazza Però i fornaci ci stanno E anche i recrafting Cioè io ho fatto tutto sto spazio Boh Per bellezza Per bellezza si Beh Che ci deve vivere? Un Un principe? Una cosa? Che ci deve vivere qua? 20 persone? O l'esagero eh O l'esagero Due piani 20 persone Impossibile A meno che non è un dormitorio O un hotel Una cosa del genere Allora E niente ragazzi Vi ho fatto vedere come In che situazione sto più o meno E la prossima volta Continuiamo questo mondo Questo video Ehm Pure per me Mi ha servito anche per me Perché Da tanto eh Dal Dall'agosto che non venivo qui eh Non ho toccato più niente Dall'agosto Dall'ultimo video che ho fatto E quindi ragazzi La prossima volta Saprò tutto E quindi sistemiamo un po' tutto Cioè Facciamo Mesa All'armatura Ah però Non abbiamo il diamante Possiamo trovarlo Sì sì Abbiamo tutto Sì sì Abbiamo tutto Sì sì La mappa che ci aiuterà Tantissimo Veramente tanto Poi si vede in prevalenza Ste tipo piramidi Che ho fatto io a casa Perché Il tetto è a forma di piramide Allora calcola come Una piramide Quindi è troppo bello E quindi abbiamo già pure Una fonte di riferimento Dove è la nostra casa E E basta Così E niente ragazzi Questo video mi è servito Soprattutto a me Ma penso anche a voi A sapere in che condizioni sto Perché Moltissimi di voi Siete nuovi iscritti E quindi Voglio continuare Questa Questo mondo E Perché non lo volevo Lasciare a disparte Non lo volevo lasciarlo Così Non lo volevo cancellare Perché Questo mondo Lo dobbiamo continuare Senza fare Challenge Nei mondi Nei Nei Server Senza fare Minigiochi Perché Sono veramente noiosi Quelli Perché Facciamo una vera Sopravvivenza Solo noi Dobbiamo fare E niente ragazzi Tutte le informazioni Le trovate qui sotto Andate a vedere La serie di minecraft Come ho costruito Tutte Queste costruzioni Centro di risorse Quello Quell'altro Che ci sono tutti i video Che L'ho fatti Proprio Restare Però Come editing Ve lo voglio dire Non è tanto Un granché Perché si vede La filigrana Dell'edit Che uso Quindi Quindi Vi voglio Avvertire Di questa cosa E niente ragazzi Io passo la parola A Topolino Noi ci rivedremo Tra tre giorni Ciao gente